Un saluto e benvenuti a questa edizione del Tg della mobilità. È stato presentato il piano trasporti per le festività natalizie. Sarà in vigore da domani e fino al 7 di gennaio. Cosa è previsto? Più corse bus e poi ZTL diurna del centro e del tridente sempre attiva anche nei festivi e con orario prolungato dalle 6.30 del mattino e sino alle 20. Tre giornate ad accesso gratuito sulla rete capitolina del trasporto pubblico. Saranno quelle di domani, del 17 e del 24 di dicembre. Due navette sempre gratuite in partenza da Termini e dalla stazione Ostiense a servizio della zona centrale della città, la Fri 1 e la Fri 2. È gratuita anche la linea elettrica 100 che viaggia tra Porta Pinciana e Prati. Intanto sempre da domani la metro A torna attiva anche di sera.